K44 Tecno, dentro gli ingranaggi del trasporto e della logistica. Siamo qua davanti al Mercedes E-Actros 300, che è un modello elettrico di Mercedes-Benz, è un veicolo, in questo particolare allestimento è un autotelaio cabinato e siamo qua con Paolo Ferraresi, che è il fondatore della Nini Virta, che è un'azienda storica nel settore del trasporto elettrico, perché usa una flotta di veicoli elettrici per la distribuzione. Da quando Ferraresi? Dal 2014 abbiamo acquistato il primo mezzo elettrico e da allora ad oggi la flotta è stata incrementata tutti gli anni per arrivare ad un numero di 16 che ci pone praticamente davanti a tutti gli altri nella gestione del trasporto con automezzi e camion elettrici. Ecco, voi avete questa grande esperienza di gestione di flotta elettrica, quindi ci può anche un po' raccontare come si organizza un'azienda di autotrasporto che ha solamente veicoli elettrici? Beh, innanzitutto bisogna cominciare a cambiare il paradigma perché non ci possiamo fermare alle stazioni di servizio a far gasolio. Di questa esperienza si parte dall'acquisizione ancora prima del mezzo che serve per calcolare batterie, chilometri, possibilità, portate eccetera, dopodiché installando le necessarie strutture di ricarica in azienda si studiano tutti quei processi, quei programmi che servono per ottenere il massimo da ogni kilowatt che scarichiamo dalla rete. Una questione che si pongono molti autotrasportatori che magari vogliono avvicinarsi all'elettrico è la gestione della ricarica perché in giro non ci sono ancora naturalmente tante stazioni di ricarica soprattutto dedicate ai veicoli industriali, quindi voi come vi siete organizzati? Essendo i primi abbiamo dovuto pagare qualche scotto e in effetti siamo dovuti organizzare in proprio dove in azienda a Tribiano abbiamo installato delle nostre colonnine alle quali collegare i nostri automezzi, ovviamente non tutti assieme perché la potenza necessaria l'Enel non riesce a fornircela in maniera completa, però da quando abbiamo installato da marzo di quest'anno 298 pannelli solari abbiamo aumentato la produzione di 100 kilowatt che sono quelli che servono praticamente per la nostra flotta e di conseguenza puoi studiare i percorsi ed eventualmente studiare nel percorso quello che può essere il punto di biberonaggio nel momento in cui vogliamo allungare la percorrenza di quel particolare automezzo per quel particolare servizio. Quindi biberonaggio dove può avvenire normalmente? Nelle ricariche che troviamo in giro ormai per la Lombardia perché oggi riusciamo a coprire quasi tutta la Lombardia e di conseguenza utilizzando quelli che sono i mezzi, i mezzi, i sistemi che troviamo su internet collegandoci a questi gestori di energia elettrica come Enel, come come altri gestori, facendo i relativi contratti e poi pensando sempre di rientrare a casa per fare poi lo splashdown dei nostri mezzi. Parlato di che impianto fotovoltaico presso la vostra sede è sufficiente per alimentare la flotta o più o meno in che percentuale riuscite a usare questa energia rinnovabile? Diciamo al 50% siamo autonomi o siamo in autoproduzione, un altro 50% dobbiamo comunque acquistarlo dalla rete. Parliamo un attimo di questo E-Actros, perché avete scelto questo veicolo in una configurazione che peraltro è particolare perché voi siete a quanto risulta i primi a usare una configurazione autotreno con un veicolo elettrico? Ancora per mantenere l'onore e l'onere di essere i primi con Mercedes abbiamo appunto pensato di utilizzare l'E-Actros nella migliore configurazione possibile, cioè con le 39 tonnellate di massa a terra e con la possibilità di rimorchiare un rimorchietto da 7,40 m per arrivare alla possibilità di caricare fino a 36 Euro pallets. Questo è dovuto al fatto di ricercare sempre la flessibilità e di poter dare alla nostra flotta la possibilità di affrontare qualsiasi tipo di incarico e con E-Actros che tra le altre cose dal punto di vista tecnico noi abbiamo visto che sono ancora oggi un passo avanti perché hanno sfruttato la possibilità di installare i motori elettrici direttamente sugli assi lasciando un'assa di distribuzione che dà il movimento alle ruote, col discorso di avere sulle ruote i motori elettrici a meno dispersione, di conseguenza abbiamo il migliore utilizzo di qualsiasi, di ognun kilowatt che caricheremo a bordo. La scelta di avere un rimorchio perché? Avere nella nostra flotta un mezzo che può arrivare a trasportare quello che gli altri dovrebbero fare in diesel. Dopo Ferraresi parliamo con Kevin Morstabilini che è il gestore della flotta elettrica della Ninivirta, praticamente di tutta la flotta perché questa azienda come abbiamo detto ha solamente veicoli elettrici. Ecco parliamo con lui per una cosa un po' particolare perché la Ninivirta ha deciso di portare l'autotelaio gemello di quello che vedete adesso per l'allestimento alla Omar di Fano e ha deciso di portarlo su strada che è una bella sfida tenendo conto che parte da Milano e che quindi deve percorrere un bel po' di strada solamente in elettrico. Prima di tutto perché avete scelto di portarlo su strada e di non imbarcarlo su una bisarca che magari era un po' più semplice. Allora la scelta di portarlo su strada era per fare il primo test reale sul mezzo quindi avere un'idea di quanto potrebbe essere il range reale del camion contando di non avere né il rimorchio né la merce caricata a bordo e per provare le infrastrutture di ricarica anche pubbliche che in questo momento il mercato ci poteva dare a disposizione. Quindi abbiamo deciso di effettuare questo test che sembrava la maniera migliore per farlo. Ecco come lo avete organizzato perché fare un viaggio con un camion elettrico da Milano a Fano richiede ovviamente una pianificazione anche perché non ci si può certo permettere di restare per strada senza carica elettrica. Sì principalmente come per tutti i nostri mezzi la gestione delle ricariche è il punto principale il punto di inizio quindi tramite varie applicazioni che nel tempo abbiamo imparato a utilizzare abbiamo cercato almeno 3-4 punti principali di ricarica lungo il percorso da Vittuone fino a Fano li abbiamo individuati il primo era il più vicino a Vittuone quindi nella zona di San Zenone all'Ambro Meleniano dove abbiamo fatto il primo test per vedere se il mezzo ricaricava quindi se le colonnine erano accessibili e tutto e abbiamo fatto questo primo test e siamo arrivati poi fino a Modena che era il secondo punto fondamentale che era più o meno metà strada. A Modena abbiamo visto che la colonnina ricaricava anche lì quindi il mezzo è arrivato più o meno al 70% l'abbiamo riportato al 100% ed a Modena siamo arrivati fino a Fano senza nessun tipo di problema con ancora il 51% e 198 km di autonomia quindi un buon traguardo diciamo per il mezzo. Diciamo che in teoria potevate fare un Milano Fano con una ricarica sola quasi? Sì sì se avessimo potuto utilizzare il mezzo da 0 a 100 senza lasciare il 20% che rende più utile le batterie o lunga la durata della vita avremmo potuto farlo idealmente si si poteva fare diciamo. Ricordiamo che era comunque un autotelaio senza allestimento e scarico insomma però diciamo che ritenete un risultato buono per voi? Sì io ritengo che sia un buon risultato che ci spinge a pensare che anche allestito il mezzo con un buon autista dei nostri penso il migliore possa riuscire ad arrivare anche magari a superare il range dei 300 km con la singola ricarica e che proveremo sicuramente. Ecco a proposito di autisti voi avete già degli autisti formati a guidare con l'elettrico avendo una flotta solamente elettrica immagino? Sì noi abbiamo già sei autisti nostri completamente formati per la guida del mezzo elettrico quindi l'autista viene assunto si fa una piccola formazione di una due settimane in cui viene affiancato o da un altro autista o da me per spiegargli come si guida il mezzo perché chiaramente è una guida preventiva quindi una guida completamente diversa da quella dei mezzi classici e dove gli si spiega come si deve gestire la ricarica che cosa bisogna fare anche per quanto riguarda la sicurezza quindi come collegare le colonie di ricarica che nei momenti di emergenza che cosa bisogna fare si fa proprio una fermazione adeguata per rendere l'autista pienamente diciamo qualificato e che conosce il mezzo quindi che sa che cosa deve fare sa come comportarsi. Ecco con questo nuovo E-Actrus quanti saranno i veicoli elettrici della flotta di Ninivino? Con questo nuovo E-Actrus passiamo a 16 mezzi completamente elettrici. Di diverse categorie? Sì partiamo dal furgone 3,5 quindi abbiamo fatto anche questa scelta perché ci sono alcuni luoghi ad esempio del centro città di Milano dove si può accedere solo con un furgone quindi per nostra diciamo idea abbiamo preso anche questo mezzo elettrico fino ad arrivare a un mezzo 18 ton scarrabile e questo sarà il mezzo più grosso poi quindi abbiamo qualsiasi tipo di tipologia di mezzo quindi chiuso quindi tutto boxato telonato con la possibilità di scambiare la cassa e tutti i mezzi sono dotati anche di sponda per il carico scarico quindi non ci precludiamo nessun tipo di trasporto. Abbiamo visto il versante dell'acquirente delle E-Actrus quindi la Ninivirta che ci ha raccontato un po' come gestiscono la flotta e ci ha raccontato come hanno scelto questo veicolo. Adesso passiamo dall'altra parte con Mercedes-Benz Track Italia abbiamo con noi Fabrizio Lombardi che è il consulente elettrico di Mercedes-Benz Track Italia ecco anzitutto Lombardi cosa fa il consulente elettrico? Sì Mercedes-Benz Track ha deciso di approcciare ogni cliente interessato proprio alla mobilità elettrica attraverso un processo di consulting che poi è il mio lavoro ovvero quello di visitare quotidianamente i clienti e raccontargli un po' quali sono le parti importanti della transizione verso la mobilità elettrica e fargli comprendere quali sono i punti di forza e i vantaggi competitivi degli E-Actrus. Quello che è importante trasferire anche al cliente è che all'interno di questa transizione ci sono sicuramente delle criticità criticità che vanno valutate a 360 gradi per fornire al cliente un po' l'informazione generale su quelli che sono i costi e i tempi dell'investimento. Diciamo che parlare di questi argomenti con l'azienda di Nini Virta del gruppo di Martino è stato abbastanza facile perché loro sono nel business dei veicoli elettrificati già da diverso tempo quindi hanno colto immediatamente i vantaggi degli E-Actrus ed hanno apprezzato fin da subito la logica costruttiva del veicolo. Nini Virta è una flotta che dal 2014 usa l'elettrico, come è stato il percorso che avete fatto con loro considerando che appunto hanno già comunque un'esperienza in questo senso? Sicuramente ci ha facilitato perché parlare con loro di tematiche legate all'elettrico ci ha dato la possibilità di sfruttare al meglio le nostre potenzialità. Infatti hanno colto immediatamente i benefici di avere nella logica costruttiva del veicolo una sale elettrico che gli permette quindi di avere un'autonomia ampia raggiungiamo i 400 km di autonomia ma soprattutto di avere un'altezza da terra dei pacchi batterie molto elevata. Questo è un aspetto molto importante che loro hanno preso in considerazione perché su uno dei loro veicoli elettrificati, un veicolo della concorrenza hanno avuto un danno importante a un pacco batterie che ha urtato accidentalmente un marciapiede e questo gli ha comportato appunto costi di ripristino molto elevati e anche tempi di attesa per mettere su strada il veicolo molto lunghi perché logicamente intervenire sui pacchi batteria è la parte più importante del veicolo elettrico e quindi è la parte più costosa e più difficile. Ecco, loro che configurazione hanno scelto? Perché come abbiamo detto loro useranno questo veicolo in una configurazione autotreno quindi diciamo anche dal punto di vista dell'elettrico magari può portare delle differenze o delle richieste particolari per quanto riguarda la tipologia del veicolo quindi diciamo carrozzabilità piuttosto che pacchi batterie come è stato costruito questo veicolo considerando che porta anche un rimorchio? Loro avevano degli obiettivi ben precisi primo era quello di avere un'autonomia del veicolo elettrico che gli garantisse l'attività di distribuzione nell'Interland milanese e in secondo luogo avere anche un veicolo che avesse dei vantaggi competitivi e si differenziasse rispetto ai veicoli che loro già oggi hanno in flotta quindi sono andati verso una soluzione di un carro tre assi atto al traino fino a 40 tonnellate di massa totale a terra complessiva che gli permettesse di svolgere un'attività flessibile quindi avere un carro che può svolgere l'attività classica di un tre assi ma all'occorrenza anche essere agganciato a un rimorchio e quindi svolgere un'attività di distribuzione con una massa totale a terra complessiva di 40 tonnellate ecco in questo tipo di utilizzo come potenze e capacità delle batterie cosa avete scelto? diciamo che la scelta esatta della configurazione è venuta fuori attraverso lunghe ghiacchierate con Kevin Mostabilini che è il responsabile della flotta della Nini Virta e attraverso varie analisi dei percorsi e delle applicazioni che loro avevano intenzione di applicare per questo veicolo si è deciso di optare per una versione con tre pacchi batterie quindi un'autonomia fino a 300 km e anche appunto come dicevi tu un veicolo atto al traino con la possibilità di agganciare un rimorchio ecco oltre al veicolo voi fornite anche qualcosa di contorno perché nell'elettrico magari dare solo il camion spesso non è sufficiente nel caso di Nini Virta come avete configurato l'offerta complessiva? diciamo che anche nell'ambito del veicolo elettrico poi non si differenzia molto a livello di servizi da quelli offerti per un veicolo tradizionale quindi parliamo del classico finanziamento piuttosto che di un accordo assistenza che possa mettere un po' al riparo e far vivere tranquillo il cliente durante l'attività di lavoro ma anche la cosa in più che riguarda i veicoli elettrici è proprio anche tutti quei servizi legati alle infrastrutture di ricarica e per questo noi ci affidiamo ad un leader nel settore delle infrastrutture di ricarica che è la Siemens che appunto ha fornito a Nini Virta tutte quelle informazioni legate all'infrastruttura di ricarica per quanto riguarda i finanziamenti diciamo che nell'ambito dei finanziamenti non è che ci sia da inventare nulla a livello di soluzioni quello che è importante è avere sempre soluzioni che siano competitive sul mercato e che siano anche veloci nell'ottenimento e in questo siamo riusciti grazie alla nostra captive la Daimler Track Financial Services che ci ha permesso appunto di offrire al cliente un servizio rapido e competitivo Per quanto riguarda l'assistenza voi avete già dei punti immagino specializzati in Italia perché poi ci vuole del personale in officina che sia formato per lavorare sui camion elettrici Sì, noi abbiamo dei punti già definiti delle officine che già operano sui veicoli elettrici ma la nostra strategia è quella di andare a autorizzare tutte le officine che operano in prossimità dei clienti a cui andiamo a vendere il veicolo trattandosi di veicoli che operano in ambito comunque locale è sicuramente importante avere l'officina in prossimità del cliente K44 Tecno vi ringrazia e vi dà appuntamento al prossimo episodio è una produzione Trasporto Europa e Uomini e Trasporti